Il Potenza Asciupa è un'occasione d'oro per limare il gap con la capolista Andrea, fermata nell'anticipo serale di sabato dall'Arzanese, dilapidando un doppio vantaggio negli ultimi dieci giri di lancette contro il Pomigliano. Errore di presunzione della truppa Giacomarro che cistina così un successo fondamentale in ottica campionato e che avrebbe dato un'ulteriore iniezione di fiducia al team Potentino. Mister Francioso si schiera a specchio provando a disinescare il fraseggio rosso-blu e ad intasare le corsie laterali, consueto terreno fertile per lo sviluppo di manovra di Giacomarro. Ma a partire meglio sono propri padroni di casa che si riversano in campo con tutta la cattiveria agonistica del caso, producendo tre occasioni nell'arco di 60 secondi. Si parte al quattordicesimo con l'imbeccata di Cianni per Palumbo che controlla e spara verso la porta trovando la deviazione in cornel di De Rossi. Sull'angolo successivo è di senso a mettere i brividi agli ospiti con una spizzata che finisce di un soffio a lato. Al quindicesimo ci prova ancora Palumbo con un'incornata di testa, abile l'estremo campano, a deviare sul fondo. Gli ospiti non ci stanno e replicano al ventunesimo con una punizione telecomandata di Terracciano con Patania che vola neutralizzare. Quattro minuti più tardi Visciano dall'out di sinistra calcia un lungo pallone all'altezza del secondo dove spunta parentato che di testa rischia di infilare Patania. Ma è miracoloso l'ex Palermo a distendersi e trovare la deviazione. Dopo il sussulto degli ospiti il Potenza torna a macinare gioco e al trentacinquesimo sfiora il gol con Vaccaro che spara sul portiere dopo una sponda di disenso. Ed è proprio l'attaccante di Bella a calciare fuori il comodo tap-in sulla ribattuta. Il Potenza flirta col gol che puntuale arriva nel garbage time della prima frazione. Eschettino a sbloccare il risultato al quarantaseiesimo con un tiro da trentacinque metri che gonfia la rete con l'evidente collaborazione di De Rossi. Ma neanche il tempo di ricomporsi e Rosso Blu segnano anche il punto del 2-0 con Cianni che fa copia in colla del gol di Franca Villa infilandola ancora colpevole portiere Campano con l'aiuto del palo. Nella ripresa gli ospiti però scendono in campo con gli occhi della tigre accorciando le distanze già al settimo quando Panico premia il taglio di Longobardi che dinanzi a Pataniano sbaglia. Accusato il colpo i Rosso Blu reagiscono con una doppia occasione ravvicinata. Al diciassettesimo Basso sfonda sulla destra e a giro cerca il palo più lontano spedendo a lato e al diciottesimo Palumbo mette in campo il marchio di fabbrica col 180 gradi e conclusione in allegato che trova una deviazione in angolo di un difensore. Ma al trentatresimo Barillari fa strabuzzare gli occhi al pubblico del Viviani con un gol capolavoro, dribbling a mandare al bar l'avversario e colpo a giro col piede teoricamente sordo che si infila nella cruna del lago dove Del Rossi non può arrivarci. Da qui col risultato ormai in tasca il blackout dei padroni di casa che rimette in partita il Pomigliano con un ato gol che ha del tragicomico. Eschettino infatti ad infilare nella propria porta Patania nell'intento di anticipare Longobardi e rimettendo in carreggiata gli ospiti. Ma 120 secondi e l'incubo si materializza. Panico guadagna campo sulla destra e serve l'entrato romano che in tuffo buca sul primo palo Patania impattando il risultato sul tre pari. Inutile l'assalto finale dei padroni di casa che chiudono il match con la mare in bocca e con il rammarico di aver sprecato una fondamentale chance.